Buongiorno, due parole sull'azienda. Gil Sander fa parte della Onward Luxury Group, è un succursale europea della Onward Holding giapponese ed è un contesto aziendale di una decina di realtà consociate in Europa e in America e in Giappone. Viene da un periodo travagliato di acquisizione e ristrutturazioni per cui nell'arco dell'ultimo decennio si sono moltiplicati i sistemi informatici. Quando sono arrivato io in azienda nel ottobre 2006 ho notato in primis la necessità di costruire dei sistemi che diano centralità al dato e uniformità all'informazione. Abbiamo quindi sposato SAS per una prima fase di progetto di data governance, quindi automazione dei flussi, data quality, strumenti di query reporting, distribuzione dell'informazione e automazione di tutta quella grada reportistica direzionale. In una seconda fase di progetto contiamo di aggredire i temi della business intelligence, la costruzione di KPI e indicatori aziendali, fino a soluzioni verticali per il controllo di gestione o la marketing automation. E quindi abbiamo sposato SAS perché abbiamo valutato che ci potesse accompagnare lungo tutto il percorso progettuale. Grazie. 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 Grazie.